Quanto durò questa vita non saprei dire, dato che avevo perso la cognizione del tempo e mi sembrava fosse sempre domenica per via del non far niente e darmi continuamente ai piaceri. Persino la notte e il giorno erano tutti mescolati, così che non dormivo quasi mai o dormivo quando ne avevo voglia. Infatti la città gaudiosa è piena di insegne luminose che producono una luce pagliante in ogni momento, onde la notte per il riposo e la quiete sembra non esistere. Inoltre dormire mi pareva uno spreco, potendo continuamente sovrazzarmi con la sempre disponibile Dolores, che è la bambola gonfiabile. Perché una volta cominciato più si smetterebbe, intendo proprio la bellissima pratica amatoria, la quale più la fai più la faresti, compatibilmente ovvio con la tua prestanza, che varia da persona a persona. E io non faccio per vantarmi, ma in quei giorni ero proprio un car armato, tanto che la povera Dolores si sarà pure stancata di accomodarsi sotto e secondare il mio piacere. Però, siccome era servizievole e silente, mai protestava e si lasciava titillare con tutto quel che segue. Comunque, per maggiore completezza, ora racconto la mia giornata tipo alla città gaudiosa, la quale era questa. Se fuori c'era il sole, mi recavo con Dolores alla spiaggia, in quanto volevo mescolarmi con i bagnanti mezzi nudi e accalcati per vedere cosa si prova. E quello che si prova è in realtà un gran caldo e sudore e desiderio che venga presto l'inverno a refrigerarti un poco. Ma Dolores, lei no che non sudava, dato che il lattice non suda, altro indizio questo della sua perfezione, proprio come sosteneva l'onfalo, grande imprenditore del cacchio. La prima volta che andammo in spiaggia, successe tuttavia questo fatto spiacevole. Che il sottoscritto si è potuto spogliare senza problemi, tenendo sotto i mutandoni coprenti le vergogne. Mentre Dolores, avendole io acquistato tutti gli abiti tranne la biancheria intima, era sfacciatamente nuda nella sua miravigliosa pelle sintetica. Allora per un po' io sono restato in mutanda e lei vestita, ma sembrandomi che patisse un gran caldo, a un certo punto le ho chiesto se soffriva, alla quale domanda ha rispotto come il suo solito con un silenzio. Onde, molto amorevole, le ho levato tutti gli indumenti, così da farla stare un poco più fresca sotto il soleone bruciante. A questo punto però i bagnanti all'intorno hanno non so come cominciato a guardare, tutti un po' sghignazzanti, qualcuno in vero anche truce, dicendo che schifo. Persino quelli che passeggiavano sulla spiaggia si fermavano ad osservare curiosi, vecchi e giovani, donne e uomini, anche mamme coi bambini che scantonavano subito come vedessero il diavolo. Ma l'unica cosa da vedere ero io in mutande con Dolores nuda. E per questa necessità di guardare, i bagnanti erano ancora più accalcati del solito. Volendo perciò sottrare Dolores alle occhiate in gorre dei passanti più ingrifati, mi sono messo sopra di lei a scopo di coprirla un poco. La quale posizione, tuttavia, non era giovevole a stemperare l'atmosfera di eccessiva curiosità, perché il bandierone ha cominciato a fare le sue solite mattane, ovvero a risvegliarsi e gonfiarsi sfuggendo al mio controllo. E a un certo punto l'eccitazione era tale che ho dovuto sfilare i mutandoni e inserire il calamo nel calamaio. Nel calamaio di Dolores con gran gaudio, la qualcosa ha scatenato un putiferio di risa sconce e grida isteriche cui in vero non badavo niente, essendo solo intento a stantuffare a più non posso e gannire di piacere. Finché qualcuno mi ha battuto sulla spalla, trattavasi di un carabiniere grifagno con baffi enormi, il quale stava lì con un suo collega pallido mingherlino dicendo che questo qui deve essere matto, intendendo credo il sottoscritto. Mi sono tirato su e scusi, ho detto, mi sembra che gli innamorati potreste lasciarvi stare, ma lui non voleva sentire ragioni ed anzi questa cosa l'abbia più indisposto nei miei confronti, tanto che mi ha preso per il braccio ingiungendomi di seguirlo mentre il mingherlino sudava e tossicchiava dietro di noi nella sua divisa troppo larga. Il grifagno addirittura voleva che abbandonassi la povera Dolores e io protestavo fossi scemo, non vede questa gente com'è vorace, se la porterebbe via seduta stante. Allora lui sbuffando ha consentito che anche Dolores venisse con noi, perciò eravamo io con i miei mutandoni e valigette in mano, Dolores nudissima, a parte i cavigli biondi che le coprivano un po' i seni e i due carabinieri in divisa d'ordinanza, che bel quadretto. Ci hanno fatto accomodare nelle loro macchine giù tutta una sequela di improperi nei nostri confronti e declini le generalità per favore, anche da quale manicomio sei saltato fuori, oppure che lavoro di merda sta dietro ai tipi come te. Così, alto un momento, ho detto e aprendo la valigetta ho mostrato i soldi chiedendo se ne volevano un po'. Il mingherlino adesso sudava forte, eppure il grifagno sembrava colpito. Ci sono guardati diverse volte, poi il grifagno ha tirato su un mazzetto di banconote e ha detto fa che non ti ripeschiamo più, aprendomi la portiera per invitarmi a uscire, cosa che ho fatto prontamente con Dolores sempre a fianco, mentre i due ripartivano sgomando come nei film americani. E in quell'occasione ho capito definitivamente che il soldo nella città gaudiosa ha grandissimi poteri, quasi sovrumani.